Mangiare funghi per tanti palati è una delizia, un piacere sopraffino che soddisfano i raccoglitori, importanti non solo per la sicurezza alimentare ma anche perché custodi di tradizione e soprattutto dell'integrità del territorio. Anche la micologia è attività giustamente regolamentata con leggi che non intendono invadere ma conservare, valorizzare, responsabilizzare. Una sensibilità che sia esperti raccoglitori ma anche aspiranti tali hanno tanto da apprezzare, per non dire assalire ad esempio, il corso di micologia a funghi nella provincia di Teramo valido per il rilascio dell'abilitazione e la raccolta in base alla vigente regge regionale 34 del 2006. A Centinaia infatti hanno seguito le otto lezioni da martedì 1 febbraio fino alla conclusiva di giovedì 24 febbraio presso la sala polivalente di Villapetto la cui proloco ha organizzato il corso a descrizione gratuita insieme al comune di Colledara e finanziato dalla provincia di Teramo. Di assoluto prestigio ed esperienza i relatori, docenti, ispettori micologi, agronomi ma anche esperti di specialità culinarie. Il percorso utilizzato un approccio semplice, divulgativo ma anche ricco di contenuti per garantire tutela dell'ambiente e del territorio e quindi continuità di raccolta oltre che ovviamente la sicurezza alimentare.